Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Nella giornata del 20 giugno la Guardia Costiera di Taranto, unitamente al personale del Commissariato di Polizia Borgo, in collaborazione con l'ASL del Capoluogo Ionico, ha smantellato una serie di impianti abusivi di allevamento di mitili, posizionati legalmente tra le banchine adibite all'ormeggio dei pescherecci in via Garibaldi, nel primo seno del Mar Piccolo. Tali impianti, oltre ad essere sprovvisti di titoli autorizzativi dei maniali marittimi e ambientali, costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica, perché situati nello specchio d'acqua del Mar Piccolo di Taranto, in cui l'allevamento dei mitili e la commercializzazione sono tassativamente vietati dall'ordinanza della Regione Puglia, in quanto fortemente a rischio di contaminazione da parte di sostanze inquinanti. Il costante monitoraggio dell'intera filiera di produzione e commercializzazione ha permesso di effettuare quest'operazione, avviata nelle prime ore del mattino, anche grazie all'intervento del primo nucleo subacquei della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, i cui operatori si sono immersi in mare per tranciare i filari di cozze e consentirne il successivo recupero e sequestro. Contestualmente i veterinari dell'Asda di Taranto hanno effettuato il campionamento dei mitili recuperati per verificarne a fini sanitari il tasso di contaminazione. Il prodotto ittico sequestrato, del valore di centinaia di migliaia di euro, ammonta oltre tre tonnellate pronte ad essere immesse nel circuito di commercializzazione cittadino, in assenza di alcun controllo igienico-sanitario e quindi potenzialmente nocive per la salute del consumatore. A queste si aggiungono centinaia di metri di cordame di supporto, numerosi galleggianti e sistemi di segnalamento abusivo, affidati alla ditta Chima per il relativo smaltimento. Nel corso della stessa operazione, protrattasi fino al primo pomeriggio, sono stati rinvenuti e sequestrati, per poi essere rigettati in mare in quanto ancora vivi, cinque sacchi contenenti 100 kg di oloturie, la cui pesca illecita causa gravi e irreparabili danni all'ambiente, diminuendo la biodiversità e alterando gli equilibri ecologici. Entra nella chiesetta rupestre del Relay Store, location scelta per la conferenza stampa, col passo sicuro e quasi annoiato della star hollywoodiana abituata a flash e telecamere. Ma il premio Oscar Russell Crowe è ben lontano dallo stereotipo del divo inaccessibile e capriccioso. Sorride, scherza, faccia esorcismi ma dovete pagare, esordisce, riferendosi al suo ultimo film, L'esorcista del Papa. È lui che cerca di mettere a suo agio giornalisti e altri ospiti intervenuti, tutti visibilmente emozionati, per la sua presenza a Taranto. Il motivo è presto detto, questa sera il cantante e attore si esibirà con la sua band nella suggestiva location dell'arena della Villa Peripato, scelta come tappa del suo tour italiano, Russell Crowe's Indoor Garden Party featuring the gentleman barbers and special guests. Sono appena arrivato, della vostra bella città non ho ancora visto nulla, ma conto di farlo presto, assicura. Riceve dalle mani del vice sindaco Fabrizio Manzullio un riconoscimento, poi ringrazia e si presta a rispondere a tutte le domande con grande disponibilità. Cinema e musica per me sono due modi differenti di raccontare, dichiara. Io nasco negli anni 80 come musicista, per me suonare è un modo di prendermi una pausa dal cinema. L'obiettivo di questo tour musicale iniziato a Catanzaro è infatti proprio quello di tornare a sentire il calore delle persone, ballare e scatenarsi insieme. Un breve cenno al suo mestiere di attore, ho dei personaggi preferiti tra quelli che interpreto, ma non mi soffermo mai a rifletterci, rivela, per poi passare al cinema italiano. Adoro i film di Roberto Benigni, per quanto riguarda i punti di riferimento nel campo, mi definisco una spugna, assorbo da chiunque. Ma all'orizzonte, dopo le fatiche musicali, c'è spazio per un po' di vacanza. Voglio prendermi almeno un mese da passare con i miei figli e le loro ragazze per girare l'Italia, paese che amo e dove mi considerano un po' uno zio. A proposito, è la mia prima volta in Puglia. Si svolgeranno questo pomeriggio presso l'hotel Salina di Taranto i festeggiamenti per i 60 anni della Cassa Idile della provincia Ionica. Un traguardo speciale al servizio del settore delle costruzioni. Un anniversario importante da vivere seguendo il motto onorare il passato, vivere il presente e guardare fiduciosi al futuro. L'evento avrà luogo a partire dalle ore 16.30 e sarà seguito dalla testata Cosmopolis Media in qualità di media partner. L'ondata di caldo africano che sta interessando l'Italia in questi giorni ha portato le temperature massime in Puglia a superare i 40 gradi. Per questo motivo la regione ha diffuso sul proprio portale alcune norme comportamentali e indicazioni per affrontare le ondate di calore di questi giorni. Le temperature molto elevate per più giorni consecutivi con alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione possono infatti rappresentare un rischio per la salute. Per questo motivo è fondamentale idratarsi adeguatamente evitare l'esposizione diretta al sole in particolare nelle ore più calde e cercare rifugio in ambienti freschi proteggendo soprattutto anziani e bambini. Si è svolto questa mattina presso il Palazzo del Governo del Capoluogo Ionico il seminario informativo organizzato dalla provincia di Taranto in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti dal titolo Strumenti e Opportunità offerti agli enti locali dalla CDP per lo sviluppo del territorio. L'evento ha come finalità quella di offrire una panoramica sugli strumenti finanziari che la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione di comuni, province e città metropolitane con particolare attenzione per il nuovo prestito green a tasso agevolato, destinato a sostenere investimenti che prevedono impatti ambientali e sociali positivi nonché per il prestito investimenti conto termico che punta a favorire la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico sul territorio. In verità devo dire che da qualche anno anche il Comune Capoluogo, nonostante la sua maggiore agibilità la sua struttura tecnica fa ricorso sempre più di frequente a strumenti alternativi per finanziare le proprie opere strategiche i propri interventi sul territorio e c'è una relazione molto forte molto ben collodata con CDP che lo ricordo a vario titolo è anche titolare di diverse aree nella nostra città per esempio al quartiere Paolo Sesto dove come sapete siamo intervenuti in termini di forestazione proprio grazie al supporto di alcune misure di CDP. Oggi presentiamo a tutti i sindaci della provincia con il coordinamento dell'ente provinciale altre iniziative nuove rafforzate in termini di strumenti e di dotazione finanziaria da parte di CDP credo che sia una validissima alternativa per tutti quei comuni, quelle amministrazioni che hanno qualche difficoltà tecnica o qualche ristrettezza economica per portare a compimento grandi opere per la comunità.